Quando ha preso questo incarico dalla presidenza del Circolo Culturale Baradello? Io ho preso questo incarico nel 1998, perché il professor Previtali era dimissionario e allora dopo vari rifiuti, perché non mi sentivo all'altezza, ho accettato per tre mesi, ma questi tre mesi sono andati avanti 15 anni. Ho più volte presentato le dimissioni, ma non venivano accettate. Questa volta finalmente sono state accettate, anche perché non ce la faccio più ad andare avanti, per tante questioni di età, di memoria, di salute e anche altri impegni che ho fatto qua. Comunque in questi anni sono state fatte tantissime cose, il Circolo può vantare, si può rogare anche l'onore di tante conferenze, convegni, mostre, pubblicazioni. Io sono convinto che il Comune di Clusone abbia ricevuto la bandiera arancione dal Touring Club, il riconoscimento dal Touring Club, proprio per le pubblicazioni del Circolo che sono andate in tutto il mondo. Mino Scandera ha accettato questo incarico. Prima di tutto ringrazio Camillo Pezzoli per il lungo lavoro fatto con il Circolo Baradello e ho accettato, non è una clausola, ma un'idea, la possibilità che questo Circolo possa essere rivitalizzato con l'acquisizione di numerosi soci, di nuovi soci che possono dare l'infora nuova e possibilità di ampliare o di ripetere le attività culturali che abbiamo fatto con grande evidenza negli anni passati. Un Circolo che tenta anche di attirare nuovi soci. Questa è la condizione principale, perché noi soci originali abbiamo fatto un lungo percorso e adesso è il momento, come dicevo prima, che il Circolo venga rivitalizzato con l'entrata di nuovi soci, possibilmente giovani, e con queste nuove leve la possibilità è quella di ripetere e di ampliare le attività culturali che sono state fatte, magari impostandole con gradualità su progetti concreti che si possono fare anche a breve termine, ma questa è l'unica strada possibile. L'accettazione di Mino Scandella a fare il Presidente per questo nuovo corso ci permette di rilanciare l'attività, anche perché è chiaro a tutti che Mino è comunque l'anima della cultura che a Clusone, la vostra stessa emittente, con i luoghi di ieri e di oggi ha dato decine e decine di queste prove. È l'occasione per ringraziare Camillo Pezzoli che ha retto per 15 anni il Circolo. Ricordiamo che prima di Camillo Pezzoli c'è stato Pier Antonio Brasi e dopo di lui Antonio Previtali.